Salve a tutti, in questo video tutorial vedremo un programma nuovo per la creazione degli screenshot perché è un programma nuovo? Quando su KDE Plasma c'è già Spectacle perché questo in più ha integrato un mini site edit tool per poter modificare direttamente il file ancora prima di salvarlo, quindi lo stesso programma fa un minimo di editing del file il programma si chiama Flameshot, potete andare sul terminale e digitare sudo zipper in Flameshot e si installerà poi la cosa che dovete fare per attivarlo, realmente con un tasto funzione o un tasto scorciatoia è andare nel menu applicazioni, farci il tasto destro, modifica applicazioni lo trovate negli accessori, ha tre entrate, però noi quello che ci interessa è cattura istantanea dello schermo io nella sezione avanzate, nella parte dove c'è scritto tasto scorciatoia corrente ho cliccato sul pulsante a fianco e ho rimesso il tasto stamp il sistema mi ha detto che è già occupato da un altro programma, non importa, l'ho riconfermato così adesso quando premo stamp si apre il programma Flameshot e non Spectacle il risultato è questo, premo stamp, si apre una scritta che dice praticamente che se faccio scroll con il mouse posso scegliere la grandezza degli oggetti che poi andrò a inserire invece se faccio enter catturo lo schermo, se no col tasto sinistro posso fare il pezzo dello schermo che voglio catturare, allora facciamo enter, ok e sono uscito fuori facciamo il nuovo stamp, se faccio questa è la mia selezione, ok sotto tutta una tool di oggetti, quindi posso mettere la freccia ok, fighissimo, adesso se faccio 2, 3, faccio la freccia più larga tac, faccio ancora 5, 6, 13, freccia larghissima, ok quindi avete capito, scrollando faccio le frecce più larghe, più strette, adesso con la stessa a 13 posso fare un quadrato grande lo metto a 1, faccio il quadrato più fino, smetto a 0, credo che non faccia faccio un quadrato ancora più fino, ok perfetto, poi posso fare cerchi, posso scrivere, ok posso anche mettere in blur qualche parte dello schermo, ok, fatto tutto questo poi faccio un bel salva, ok, e lo metto sotto, per esempio sotto la scrivania in questo momento e creo il mio screenshot, adesso andiamoci a vedere esattamente cosa ha creato con tutte le mie aggiunte c'è la mia immaginetta, quindi così posso proprio fare tipo evidenziare quello che mi interessa, nascondere quello che non mi serve per la privacy e tutto il resto questa immagine può essere condivisa in vari servizi, ok, qua ne ho un bel po' oppure posso addirittura copiarla e trascinandola su telegram per esempio per questo video tutorial è tutto